Terme di sciacca, la palla è tornata a Palermo dopo la conclusione della verifica di consistenza dei beni. La CGL chiede oggi all'assessore Armao di accelerare le procedure del bando e invoca al tempo stesso garanzie occupazionali. 80 medici, 60 infermieri e altri collaboratori professionali escono dal precariato. Corposa tranche di stabilizzazione all'aspede grigento per tamponare l'emergenza personale negli ospedali della provincia. Sciacca perde un professionista di indubbio valore, è deceduto ieri l'ingegnere Pippo Oliveri, esperto di urbanistica e ideatore del PIT Aquella Bodes, che portò alla riqualificazione del centro storico della città. Scuola, rotazione dei dirigenti, lascia il Don Michele Arena per tornare nella sua favara la dirigente Gabriella Bruccoleri, al suo posto arriva Calogero De Gregorio, nuovo dirigente alla scuola Sant'Agostino e Emanuele Giordano. Emergenza Sangue nell'estate 2018, con un crollo delle donazioni che registra anche l'Avis di Sciacca, nonostante le campagne di sensibilizzazione. Per Pidone il Sangue e anche biglietti gratis per i concerti della Nannini ed Agostino. Tutto pronto per la quindicesima edizione del premio letterario Giuseppe Tommasi di Lampedusa, in programma il 4 agosto a Santa Margherita di Belice. Il vincitore è Fernando Aramburo. Aramburo, ospiti di onore Giancarlo Giannini e la cantante Noemi. Ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, lo avete sentito dai titoli, c'è il futuro delle terme di Sciacca. Tutto fermo alla Regione. Dopo il completamento dell'analisi della consistenza dei beni, la palla è tornata a Palermo. Oggi la CGL chiede un'accelerazione all'assessore Armao e invoca garanzie occupazionali all'interno del bando, in attesa che venga finalmente pubblicato. C'è il servizio. Dopo quasi un anno dalla cessione dei beni delle terme al comune di Sciacca, quanti mesi occorreranno ancora per avere finalmente il bando? E' questo solo uno degli interrogativi contenuti in una lettera della CGL indirizzata dall'assessore regionale all'economia Gaetano Armao. Il segretario provinciale Massimo Raso, il segretario di zona di Sciacca Franco Colletti e quello della Filcams Franco Castronovo oggi ritengono necessario tornare su un tema rimasto in sospeso. Noi, chiariscono i sindacalisti, siamo tra quelli che non hanno mai nutrito grandi aspettative sulla possibilità che il comune di Sciacca potesse far compiere all'intera questione passi in avanti significativi, tanto più che per mese abbiamo inseguito questa questione della consistenza dei beni. Ma adesso che questa partita si è chiusa e che il comune ha consegnato il tutto, cosa si aspetta? E questo benedetto bando dovrà farlo il comune o la regione. Ma non si può andare avanti così. Quante altre stagioni intendiamo perdere? Insomma, il tono dei rappresentanti sindacali è accorato, anche perché è di tutta evidenza che occorra fare presto e che il giudizio della CGL è il miglior partner possibile e quello che offra maggiori garanzie circa la capacità di gestione e l'occupabilità delle persone. Questioni definite dalla CGL non secondarie, questioni per le quali si ritiene debbano essere inserite e sottolineate nel bando dei fini della qualificazione nella scelta. Raso, Colletti e Castronovo confidano che l'assessore Armao faccia in tempi brevi la massima chiarezza sulle questioni poste. Questa città, dicono, attende da troppo tempo di vedere ripartire le terme e con esse quel di più di occupazione e sviluppo di cui abbiamo tanto bisogno. In effetti la questione terme si è bloccata. Nei mesi scorsi l'assessore regionale Gaetano Armao aveva sollecitato il comune di Sciacca per la definizione della consistenza dei beni, lasciando intendere che a Palermo non aspettassero altro. Questione poi risolta con la presentazione di una documentazione che i funzionari della regione hanno considerato addirittura eccessivamente precisa. Ma da quando la palla è tornata a Palermo tutto tace. Si attendono ancora notizie, infatti, di quel bando da pubblicare per la selezione di quel partner a cui far gestire i beni, dalle stufe di San Caloggio, dal Grandotelle, dal parco e le piscine. Confidiamo in un'accelerazione. Il professore Armao si è più volte dimostrato molto attento al problema. Per noi le terme sono il punto di partenza di ogni ipotesi di sviluppo. A parlare così il vice sindaco assessore al turismo Filippo Bellanca. Il sindaco Francesca Valenti intende chiedere un nuovo imminente incontro con l'assessore Armao. Ad oggi le ultime positive novità, risalenti però ormai allo scorso mese di maggio, sono ancora ferme all'inserimento nel complesso immobiliare di quelle stufe vaporose che inizialmente, per questioni catastali, non facevano parte del patrimonio termale da consegnare al Comune. Poi si pensava che il bando potesse essere scritto a sciacca, ma il nuovo governo regionale guidato da Nello Musumeci ha affermato ogni ipotesi del genere. Il bando lo facciamo noi, ma in collaborazione col Comune, ha precisato più volte Gaetano Armao. Cambiamo argomento. Una corposa tranche di stabilizzazioni per potenziare gli organici dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. 80 dirigenti medici e 100 collaboratori professionali escono dal precariato. Ne parliamo in questo servizio. Un continuo via vai di medici, infermieri, tecnici e altre figure sanitarie. Quello che per giorni si è registrato presso la sede legale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, dove erano stati convocati per sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Una corposa tranche di stabilizzazioni, deliberata con una serie di provvedimenti dalla Direzione Strategica dell'ASP, ha reso possibile l'assunzione di 80 dirigenti medici e 100 collaboratori professionali di vari profili sanitari, che dopo anni di lavoro scanditi da ripetuti rinnovi di incarichi per periodi circoscritti, escono finalmente dal precariato. Per ciò che riguarda il personale medico, si tratta di oncologi, urologi, chirurghi, otorino-laringoiatri, pediatri, neonatologi, ortopedici, ginecologi, psichiatri, nefrologi, anestesisti e rianimatori, cardiologi, medici di medicina trasfusionale della chirurgia d'accettazione d'urgenza. A completare la procedura di reclutamento prevista dal cosiddetto decreto Maria, anche 62 infermieri, 15 tecnici di laboratorio biomedico, 13 farmacisti, 6 ostetriche, 3 tecnici sanitari di radiologia medica e un tecnico di neurofisiopatologia. La nuova massiccia assunzione a tempo indeterminato consente di coprire quasi il 50% del fabbisogno triennale 2018-2020. L'ASP di Agrigento annuncia che nelle prossime settimane saranno portate a termine ulteriori stabilizzazioni. Il restante 50% dei posti disponibili verrà attribuito attraverso le procedure di mobilità già deliberate e pubblicate in gazzetta ufficiale. I numeri delle stabilizzazioni della mobilità dimostrano però come la situazione degli ospedali agrigentini fosse al collasso. I vertici dell'azienda precisano che se tutti i posti disponibili non saranno coperti attraverso la mobilità, verranno attivati nuovi concorsi per accesso dall'esterno. Intanto si evidenzia che oltre a consentire l'uscita dal precariato del personale interessato, l'Ital appena concluso ha sortito l'effetto di evitare gravi criticità presso i reparti ospedalieri dove i sanitari stanno prestando servizio. I vari professionisti avrebbero infatti potuto lasciare le strutture agrigentine per assumere nuovi incarichi presso altre aziende sanitarie dove sono in corso procedure concorsuali di reclutamento del personale. La direzione aziendale, dopo aver acquisito la disponibilità dei professionisti a continuare a esercitare il proprio mandato presso l'aspe di agrigento, ha in diversi casi avviato come previsto dall'assessorato regionale alla salute un virtuoso esempio di dialogo interistituzionale con le varie aziende. Ciò ha consentito ai sanitari di esercitare il loro diritto di scelta rimanendo nel territorio provinciale e continuando ad assistere i pazienti agrigentini. Come anticipato nei Tg di ieri, in attesa della conclusione delle procedure di stabilizzazione e di quelle di assunzione tramite mobilità da altre aziende pubbliche, sono stati indetti bandi per acquisire personale in comando i cui termini di presentazione delle domande sono già conclusi tramite i quali si sta cercando di tamponare l'emergenza. E tra i fatti in primo piano delle ultime ore c'è sicuramente la morte dell'ingegnere Pippo Oliveri tecnico di fama nazionale, esperto di urbanistica e di appalti pubblici. Tante le persone che oggi lo ricordano, tra cui l'ex sindaco Ignazio Cucchiara di cui Oliveri fu braccio destro e il leader dei feeling Pasquale Sabella. Il servizio è di Massimo D'Antonio. Si terranno domani nella chiesa del Carmine a partire dalle 16.30 funerale dell'ingegnere Accursio Pippo Oliveri, morto ieri sera a 63 anni al culmine di una lunga battaglia contro il male che lo aveva colpito. Tecnico preparatissimo, già ingegnere capo a Santa Margherita, fu autore di tantissime pubblicazioni tecnico-scientifiche. Pippo Oliveri fu consulente presso diverse università italiane, docente nell'ambito di master universitari, grande esperto di tutte le normative riguardanti il sistema degli appalti pubblici che illustrava con rigore morale nei corsi di formazione nei quali veniva chiamato a relazionare in ogni parte d'Italia. Già consulente del Comune di Menfi negli anni delle prime sindacature di Enzo Lotà, nei primi anni 2000, Pippo Oliveri fu braccio destro di Ignazio Cucchiara nella loro amministrazione comunale di Sciacca, ispirando e sovrintendendo al PIT Acqua alla Bodes, il patto territoriale della svolta, quello che si piazzò ai primissimi posti tra i progetti considerati migliori dall'Unione Europea. PIT da cui discendono gran parte dei progetti di ristrutturazione del centro storico di Sciacca realizzati negli anni successivi, il ricordo commosso di Pippo Oliveri dell'ex sindaco Ignazio Cucchiara. Un professionista eccezionale che ha partecipato oltretutto con la passione di chi ha consapevolezza di svolgere un servizio. Per esempio, al di là di tutto quello che riguarda la progettazione del centro storico, è certo che senza la presenza dell'ingegnere Pippo Oliveri noi non avremmo aperto il ponte sulla Canzalamone. È stato lui che senza avere nessun obbligo, in base al rapporto negoziale che aveva con l'amministrazione e con il sindaco, a firmare il provvedimento di riapertura del ponte assieme al professore Mancuso. È stato un formatore che è riuscito a svolgere questa attività fin nell'ultimo periodo. Io ricordo anche, se non soprattutto, per il suo grande equilibrio interiore. Sono tanti i ricordi e gli attestati di stima in queste ore, soprattutto sui social network, tra i messaggi di cordoglio anche quello dell'ingegnere capo del genio civile di Agrigento Duilio Longi, che definisce Pippo Oliveri un professionista di altissime qualità tecniche ed umane, punto di riferimento certo di alto profilo, instancabile e preciso riferimento di tanti colleghi e tante istituzioni, sempre pronto a risolvere ogni problema che veniva prospettato con professionalità ed equilibrio. Anche l'amministrazione comunale di Sciacca, oggi col vice sindaco Filippo Bellanca, esprime cordoglio per la scomparsa di Pippo Oliveri, una scomparsa che giunge un anno dopo quella di un altro professionista di alto spessore, ossia Michele Buscarnera. Pippo Oliveri, dice Bellanca, anche a nome di Francesca Valenti, ha contribuito ai progetti di riqualificazione della città e dunque Sciacca gli deve molto. Sul piano personale l'ingegnere Oliveri ricorreva spesso all'ironia per sdrammatizzare le situazioni più complicate, aveva una visione anche morale della sua professione, era stato anche musicista e in gioventù aveva fatto parte dei feeling il ricordo commosso di Pasquale Sabella. Ha suonato con noi, con i feeling, un bel decennio, ci siamo divertiti e siamo cresciuti assieme facendo della buona musica. È stato un grande bassista, uno dei migliori, Sciacca aveva un cuore eccezionale e lo trasmetteva questo cuore anche con la musica, era qualcosa di eccezionale. Alla famiglia dell'ingegnere Pippo Oliveri anche le condoglianze della nostra emittente. E ci occupiamo di rifiuti. Si sta provvedendo a rimuoverli dalle discariche a cielo aperto, sorte lì dove erano presenti i cassonetti di prossimità rimossi nei giorni scorsi. Pulizie effettuate in contrada carbone. Ancora cumuli di spazzatura davanti al cimitero di incontrada foggia, zone che dovrebbero essere ripulite a breve. L'assessore Mandracchia e il dirigente Rapisardi avevano infatti sollecitato la ditta ad intervenire per rimuovere rifiuti presenti ai bordi delle strade. E per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta appena avviato proprio in contrada carbone, la ditta oggi spiega che occorrono le necessarie tempi tecnici per garantire la raccolta in tutta la zona. Ieri il servizio è stato avviato, infatti in ritardo, e non in tutte le strade, ma a partire da oggi dovrebbe normalizzarsi. Scuola, rotazione, dirigenti. Lascia il Don Michele Arena di Sciacca e il dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri. Da settembre reggerà infatti un istituto di Favara, sua città di origine, e sarà sostituita dal preside Calogero De Gregorio. Novità anche per il secondo circolo didattico Sant'Agostino. Il dirigente Emanuele Giordano prenderà il posto di Evelina Maffei. I dettagli in questo servizio. Rotazioni e spostamenti tra le dirigenze scolastiche a Sciacca. Cambio di guardia all'istituto superiore Don Michele Arena e al secondo circolo didattico Sant'Agostino. Torna nella propria città Favara Gabriella Bruccoleri, brillante dirigente scolastica, promotrice di diversi incontri, seminari, iniziative dedicate agli studenti e ai docenti della scuola. Dal 2012 ha retto con impegno il Don Michele Arena, nelle sue sedi di Via Nenni, Miraglia, Giotto a Sciacca e di Via Eta a Menfi. Adesso si sposta all'istituto comprensivo Guarino, come si diceva, di Favara. Al Don Michele Arena arriverà il dirigente Calogero De Gregorio, proveniente dall'istituto Giovanni Paolo II di Marsala. Trasferita a Palermo, invece, il dirigente della scuola primaria dell'infanzia Sant'Agostino, Evelina Maffei. Nella scuola Saccense arriverà Emanuele Giordano, che fino allo scorso anno dirigeva una scuola di Erice. Il secondo circolo di Sciacca troverà così un suo assetto definitivo, dopo essere stato affiancato alla dirigenza prima dell'istituto Mariano Rossi con il preside Luigi Abene, e poi dell'istituto comprensivo Dante Lighieri con Pippo Graffeo, a causa dell'impossibilità della dirigente Maffei di svolgere il proprio ruolo. Si avvia con questi due spostamenti un ciclo di cambiamenti tra gli istituti scolastici della città, previsti infatti altri trasferimenti anche tra due anni. Il prossimo biennio scolastico sarà infatti caratterizzato da un numero consistente di pensionamenti, tra presidi, insegnanti e personale tecnico e amministrativo. Si prevede quindi un ricambio, che dovrà comunque fare i conti con un numero di iscrizioni sempre più in calo. In provincia d'Egrigento, soltanto per l'anno scolastico che prenderà il via a settembre, si parla di 653 operatori scolastici dai dirigenti al personale che andranno in pensione, ma anche in totale di circa 1.600 studenti in meno. Traffico in tilt non solo nella località di San Marco, come abbiamo evidenziato ieri ai nostri telegiornali. Analoga situazione si registra a San Giorgio, evidenziarlo oggi con un'interrogazione all'amministrazione e il consigliere Salvatore Monte. L'amministrazione Valenti, scrive Monte, aveva assunto impegni precisi nei confronti di quanti risiedono nella località, ma ad oggi non è stata in grado di garantire le cose più semplici. Si riferisce alla regolamentazione del traffico, che soprattutto la domenica registra situazioni incresciose, con bagnanti inferociti, arterie stradali al collasso e prive di parcheggi e vie di fuga. All'assessore alla Polizia Municipale, il consigliere Monte ricorda che negli anni passati veniva emanata un'ordinanza che regolava la viabilità in località San Giorgio. E anche via libertà come esempio di città abbandonata a se stessa. È sempre il consigliere Salvatore Monte ad evidenziare il degrado in cui versano diverse zone del centro storico, con rifiuti e sporcizi abbandonati nelle piazze e negli slarghi. E voltiamo pagina, ipotesi rimpasto alla regione siciliana. Il governatore nello musumeci intende rafforzare la propria maggioranza e dopo l'estate potrebbe aprire le porte dell'esecutivo alla Lega di Matteo Salvini. Porte chiuse invece al Movimento 5 Stelle. Gianfranco Micicchè di Forza Italia è stato chiaro. O noi o loro. In bilico la posizione di Lagalla, Pappalardo e Turano. Sentiamo. Acque agitate alla regione. Non è escluso che, una volta terminata l'estate, il presidente nello musumeci possa mettere mano alla propria squadra di governo e riformulare giunta e deleghe. Al centro del contendere ci sono sempre i rapporti a corrente alternata con Forza Italia, i numeri risicati che la maggioranza mantiene, anzi spesso non mantiene, in aula, e l'ascesa della Lega di Salvini, che, nonostante abbia contribuito all'elezione di musumeci, non ha alcun ruolo in giunta. In tal senso significativa è stata la presenza del governatore a Pontida all'ultima convention dei leghisti, che potrebbero ottenere, quantomeno, una poltrona d'assessore. A confermare le difficoltà dell'esecutivo, sia nello musumeci, sia Gianfranco Miccichè, presidente dell'ARS, che ha dichiarato oggi al Live Sicilia se persino il presidente della regione è costretto a venire in aula ogni volta che si vota, o costringe a votare anche il presidente dell'ARS, per timore che manchino i numeri, significa che la maggioranza di fatto non c'è. Nelle intenzioni, musumeci vorrebbe allargare il fronte della maggioranza ad alcune forze politiche che oggi stanno all'opposizione, ma è difficile mettere d'accordo tutti, anche perché ciò significherebbe garantire ruoli di primo piano ai nuovi arrivati, scontentando magari i vecchi alleati. L'apertura al Movimento 5 Stelle è sempre impossibile, o noi o loro, dicono quelli di Forza Italia, con Miccichè in testa. Invilico la posizione di diversi attuali assessori, soprattutto Sandro Poppalardo, Salvatore Cordaro, Roberto Lagalla, Girolamo Turano ed Edi Bandiera. Ancora è presto per parlare di ipotesi e nuovi nomi, tutto dipenderà dal quadro dell'alleanza che salterà fuori. È chiaro che lo scenario politico nazionale avrà ricadute pure su quello regionale. L'Assemblea regionale siciliana è sostanzialmente bloccata, si lavora a ritmo ridotto e nulla giunge in aula se non lo stretto necessario, proprio per evitare imboscate. Musumeci del resto, già in passato, è stato chiaro, o si approvano le riforme che ho in mente per migliorare la Sicilia o non ho problemi a dimettermi, mandando di fatto tutti a casa. La Sicilia, prima regione plastic free, è la proposta a costo zero formulata dal parlamentare, saccenza del PD, Michele Catanzaro. C'è il servizio. Un disegno di legge è una mozione urgente per rendere la Sicilia la regione più virtuosa d'Italia in tema di differenziate e riciclo. L'iniziativa del parlamentare del PD, Michele Catanzaro, impegna il governo musumecio e vietare, tra le altre cose, l'uso delle stoviglie non biodegradabili o compostabili in menze manifestazioni pubbliche. Una proposta a costo zero, tiene a precisare il deputato Saccenze, che evidenzia come proprio nel periodo in cui i comuni stentano a trovare risorse e mezzi per iniziare o implementare la raccolta differenziata e in cui molti impianti di riciclaggio sono già saturi, si possa intervenire nella fase iniziale della produzione di rifiuti per ridurne la quantità. Se lo smaltimento è faticoso, occorre evitare di produrre spazzatura. Così, per Michele Catanzaro, una iniziativa utile può essere quella di limitare l'utilizzo di stoviglie e contenitori di plastica sui territori e incentivare le politiche del vuoto a rendere. Un sistema per ridurre di riflesso la porzione di rifiuti di cui devono farsi carico i comuni e così via l'intero ingranaggio di raccolta per alleggerire il ciclo di smaltimento e al tempo stesso migliorare l'ambiente. I rifiuti e ricchezza economica per molti paesi europei sono ancora per noi siciliani un annosso problema commenta il parlamentare regionale del Partito Democratico. Certamente aggiunge occorre raggiungere livelli ambiziosi di raccolta differenziata obiettivo al quale regione, sindaci e cittadini devono ammire ma anche ridurre la quantità dei rifiuti che ogni giorno si produce è un segno di rispetto nei confronti delle nuove generazioni e di quelle che ancora verranno. Peraltro Catanzaro evidenzia come il Mediterraneo venga messo ogni giorno in pericolo dagli spaventosi livelli di inquinamento che mettono a rischio la bellezza della natura la fauna e la flora. Per il deputato a saccenza è importante che le istituzioni diano i giusti input e vietare l'utilizzo di piatti bicchieri e altri contenitori non più degradabili nelle menze e nelle manifestazioni pubbliche e anche altro significa ridurre sensibilmente la plastica. E voltiamo pagina l'esecuzione di un delicato e innovativo intervento chirurgico presso il reparto di emodinamica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento apre a singolari scenari nel trattamento dell'ictus cerebrale attraverso un'angioplastica percutanea è stata salvata la vita ad un paziente in condizioni critiche ed il risultato ottenuto consente di gettare nuove luci sul trattamento della patologia gli aspetti scientifici e la portata del traguardo ottenuto con pochi uguali nel panorama regionale e nazionale saranno illustrati in programma domani presso la sede dell'aspe di Agrigento ed è emergenza sangue anche per l'estate 2018 diminuiscono le donazioni mentre aumenta il fabbisogno di sangue negli ospedali a lanciare l'appello ai donatori oggi il presidente dell'Avis di Sciacca Calogero Termine per i donatori anche biglietti gratuiti per il concerto di Gianna Nennini e di Gigi D'Agostino sentiamo cercasi i donatori è un'altra estate all'insegna dell'emergenza sangue la situazione è veramente critica con un ulteriore calo delle donazioni rispetto alla scorsa stagione che registra anche l'Avis di Sciacca nonostante le campagne di sensibilizzazione portate avanti la problematica ovviamente non riguarda solamente le nostre zone purtroppo il problema non affligge soltanto la Sicilia ma tutta Italia infatti il ministro Salvini ha allertato tutte le prefetture d'Italia siamo stati convocati in settimana dal prefetto proprio per andare perché vuole constatare di fatto la situazione che c'è anche in provincia di Agrigento noi riusciamo ancora ad oggi a barcamenarci in questa situazione riusciamo a recuperare il più possibile anche se purtroppo denotiamo nell'ultimo periodo uno scollamento da parte dei giovani cioè una poca sensibilità da parte dei giovani cosa che purtroppo negli altri anni invece avevamo un riscontro positivo quest'anno stiamo denotando soprattutto con le scuole che i giovani diventano un po' più lavativi non solo le campagne di sensibilizzazione si nira ad incentivare le donazioni anche mettendo a disposizione biglietti gratuiti per quelli che sono gli spettacoli clou dell'estate saccenza ne approfitto per ringraziare la punta a capo che è l'organizzazione del concerto della Gianna Nannini perché ci ha dato l'opportunità infatti di promuovere il concerto omaggiando i donatori del biglietto del concerto dicevo per i meno giovani diciamo così li abbiamo accontentati con la Gianna Nini per sensibilizzare il pubblico più giovane abbiamo chiuso un accordo con l'organizzazione di Gigi D'Agostino e omeggeremo tutti i giovani con la speranza che questo messaggio possa veicolare tra i giovani anche se lo stiamo martellando sui social perché oggi i giovani sono soltanto sui social facebook e quant'altro e cerchiamo di coinvolgerli così quindi per poter usufruire di questo spettacolo con il biglietto gratuito occorre venire all'Avis e fare la donazione fare per chi ha già fatto l'idoneità perché molti giovani delle scuole l'hanno già fatta infatti questo appello è rivolto a loro di ritornare a fare la donazione e li omaggeremo del biglietto di Gigi D'Agostino in merito invece a Gianna Nannini la nostra campagna si chiama Porto un Amico cioè significa che chi è donatore se Porto un Amico che non ha mai donato omaggeremo del biglietto al nostro donatore quindi già veterano e al nuovo donatore perché è importante non dimenticare di contribuire con una donazione al lavoro che voi svolgete è molto importante perché in un periodo come questo soprattutto dove con il caldo purtroppo gli ammalati anche talassemici hanno maggiori bisogno di trasfusioni perché purtroppo chi ha problemi oncologici ha bisogno di trasfusioni perché essendo il periodo estivo aumentano anche gli incidenti e quindi il fabbisogno di sangue aumenta e siamo alla cultura il 4 agosto serata di gala Santa Margherita per la quindicesima edizione del premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel centro margheritese fervono i preparativi sentiamo tutto procede a Santa Margherita a Belice per la serata di gala del 4 agosto per la quindicesima edizione del premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa quest'anno la giuria presieduta da Gioacchino Lanza Tomasi ha deciso di assegnare il riconoscimento a Fernando Aramburu scrittore spagnolo col suo libro dal titolo Patria edito da Guanda romanzo che in Spagna ha vinto il premio nazionale della critica romanzo che è stato considerato il caso editoriale del 2017 Patria racconta la singolare identità della comunità basca circa 800.000 persone che parlano l'euschera la sola lingua anteriore alla migrazione dorica in Europa un premio letterario il Tomasi di Lampedusa su cui il comune margheritese punta con grande attenzione Guardi il premio letterario giunto alla quindicesima edizione penso che ormai sia veramente il fatto identitario di questa città siamo riusciti con tanti sforzi devo dire a legare il nome di Giuseppe Tomasi di Lampedusa a legare il Gattopardo a questa nostra città ed è veramente un motivo di grande soddisfazione quest'anno è un premio anche speciale perché ricordo che siamo al 60esimo anniversario della pubblicazione del Gattopardo e anche al 50esimo anniversario del terremoto e sono due cose che per certi versi si legano perché il ricordo del terremoto dopo 50 anni ma anche il ricordo del Gattopardo per una città che vuole appunto crescere e progredire attraverso un impegno culturale ci siamo dati questa scelta abbiamo fatto questa scelta di rappresentare Santa Magrida città del Gattopardo e dopo tanti anni di sacrifici penso che ci siamo riusciti anche quest'anno ritengo che doniamo un premio letterario molto ma molto importante con uno scrittore ancora contemporaneo di altissima qualità e ringrazio sempre la nostra giuria presieduta da Giochino Lanza Tomasi che ha donato a Santa Magrida di Belice tre premi Nobel e tanto altro ancora lo spettacolo quest'anno si svolge con sullo sfondo l'ingresso principale del Palazzo del Gattopardo con ospiti di assoluto prestigio oltre allo scrittore premiato Giancarlo Giannini che ritengo che è nel cuore di tutti quello che amano il cinema e aggiungiamo un ospite musicale che oggi va per la maggiore che è gradito ai giovani che è una voce interessantissima la critica diciamo ne parla assolutamente bene che è Noemi poi c'è anche un musicista raffinato come il nostro Milici e due presentatori un giornalista al Rai e un'attrice appunto la Gianrusso e il giornalista Nino Graziano penso che sia un'ottima un'ottima scelta frutto di tanti sacrifici però ci teniamo il nostro premio letterario pensiamo che debba essere una serata importante dedicata alla cultura dedicato allo spettacolo compatibile per dimostrare appunto che Santa Margherita c'è e vuole continuare ad esserci nuovi appuntamenti dell'estate saccensa 2018 promossi e organizzati dal comune di Sciacca questa sera in piazza Angelo Scandaliato il concerto del gruppo musicale Il mio canto libero con una serata in omaggio a Lucio Battisti il gruppo è formato da Cursio Sclafani Mimo Galluzzo Enzo Dasaro Gigi Marino e Gino Guardino è una band che ha nel proprio repertorio cover anche degli stadio e dei pu il secondo appuntamento musicale è in programma La Badia Grande con un concerto dal titolo tra sospire e inganni dell'istituto musicale Arturo Toscanini di Ribera in collaborazione con l'Accademia Schenè e siamo alla rubrica Il libro del giorno L'inizio di tutto è il disgraziato giorno in cui il mio fidanzato dell'epoca mi lasciò non ero preparata non ritenevo contemplabile il fatto di poter essere mollata l'ipotesi non mi era mai stata annunciata in alcun modo e soprattutto era profondamente ingiusto non si lascia una donna perché è gelosa cosa succede quando finisce un amore la delusione la tristezza il dolore certo ma poi dopo i primi giorni anche l'inesorabile scivolare verso una serie di incontri surreali e di relazioni lampo con personaggi a cui a distanza di anni non si concederebbe neppure il tempo di un caffè ma che per irripetibili congiunzioni astrali si sono trovati a rivestire il ruolo di traghettatori con effetti tragicomici personaggi che potrebbero sembrare frutto di fantasia di un mojito di troppo o di una sfiga siderale e che invece ahimè sono comuni e realmente esistiti da mister foglio excel di una taccagneria mitologica a mister o una cosa per te cleptomane compulsivo una galleria di uomini che prima ancora di poter essere definiti ex sono evidenti cristallini casi umani e che selvaggia lucarelli racconta con spietata autoironia con il sollievo e la benevolenza della sopravvissuta casi umani di selvaggia lucarelli edito rizzoli azuro food la cucina al centro del mediterraneo tornano anche quest'anno i cantu e cuntu street bands accenze che per tutte e quattro le serate della manifestazione intratterrà il pubblico con canti tratti della tradizione siciliana la peculiarità del gruppo è l'esecuzione di brani del repertorio folk rivisitati in chiave teatrale con un coinvolgimento del pubblico è un repertorio nel quale spiccano i brani dell'antica tradizione siciliana era l'ultima notizia grazie a voi per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni